La cocciniglia farinosa è una specie polifaga diffusa ovunque nelle aree temperate, in pieno campo e nelle serre. Attacca gli agrumi provocando danni in modo particolare all'arancio, al mandarino e al limone. La femmina adulta è appiattita e ovoidale e presenta il corpo ricoperto da una polvere cerosa. Essa è contornata da una serie di raggi cerosi di uguale lunghezza, ad eccezione dei due caudali che sono più lunghi. Il maschio è dotato di ali e sugli agrumi si localizza in prossimità dei frutti, soprattutto nelle zone di contatto tra frutti e foglie. La fitta vegetazione favorisce il formarsi di dense colonie fioccose, a volte presente anche sui fiori, che prolificano i condizioni di umidità elevata e nelle zone di ombra. I danni sono diretti per sottrazione di linfa o indiretti per produzione di melata e abbondante secrezione cerosa, con conseguente sviluppo di fumaggini. I frutti vengono deprezzati perché imbrattati di melata, ricoperti di fumagine e fiocchi di cera. Le forti infestazioni inoltre provocano anche una caduta dei frutti. L'attacco di Planococcus citri favorisce la presenza di altri insetti che trovano rifugio tra gli ammassi cerosi. Planococcus citri sverna normalmente come neanide di seconda età, tuttavia può svernare anche in altri stadi, riparato tra la vegetazione o tra le screpolature del tronco o basse del colletto. Il numero delle generazioni è variabile a seconda delle condizioni climatiche, di solito varia da 2 a 5 generazioni all'anno. Ricordiamo inoltre che è possibile intraprendere una lotta biologica attraverso l'introduzione in frutteto di predatori naturali di Planococcus citri, come Exocomus quadripustulatus, Anagirus pseudococci e Leptomastix dactilopi. Per la lotta e la prevenzione, Agriman consiglia le migliori soluzioni. Expedient, insetticida specifico per la lotta alle cocciniglie. È un uovo larvicida, agisce per contatto e ha un'azione indiretta sugli stadi adulti grazie alla riduzione della fertilità. Camel, un olio bianco insetticida o vicida, specifico per la lotta contro le cocciniglie dei fruttiferi, non solo degli agrumi, ma anche di olivo e piante ornamentali. Il sapone molle, esplicazione indiretta nei confronti delle fumaggini. È efficace nel controllo delle cocciniglie, in quanto la loro protezione chitinosa viene sciolta dall'azione del sapone. Scaletrap, una trappola studiata per il monitoraggio delle cocciniglie. È una trappola costituita da un fondo collato nella parte interna con un erogatore di feromoni. Aiutaci a crescere, lasciaci un like, condividi questo video o visita il nostro sito per scoprire le soluzioni consigliate dai nostri tecnici.